Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, io sono Angela e oggi parleremo di uomini e donne. Anticipazioni, grazie a Witty TV possiamo capire un po' cosa succederà nella puntata di domani e sembra proprio che Sirius Nicola Vivarelli lascerà lo studio. Un grande colpo di scena. La causa sembrerebbe essere proprio Valentina che pare essere molto interessata a Nicola, tanto che ha scatenato oggi la gelosia di Gemma Galgani. La stessa Maria crede che l'atteggiamento di Gemma sia un po' troppo infantile, infatti gli dice va bene la gelosia ma deve avere anche un senso. Maria cerca di far tornare nel mondo della realtà Gemma, ma sembra che non ci riuscirà perché dalle anticipazioni possiamo intravedere che Nicola lascerà lo studio tra le lacrime della dama di Torino. Nel video lo vediamo andare via ma non si capisce molto bene il perché. Oggi in puntata infatti sembrava un po' strano, magari non riesce a reggere la situazione tra Gemma e Valentina. Lo scopriremo domani, dove la puntata sarà concentrata sempre su Gemma e Sirius ma anche su Veronica e Roberta. Io vi invito ragazzi a iscrivervi al canale e lasciatemi un like di supporto. A presto con tanti altri prossimi video!